E' un refurbishment fatto nel 2018 dal nulla con zero pubblicità E' un uomo, un quadro dentro Senti, c'è la pasticceria di tuo negozio, c'è la pasticceria di qui Immagino che sia una scena del film E' un uomo, un uomo, un uomo Un uomo, un uomo Un uomo, un uomo, un uomo Il mio amore e il mio amore, il suo figlio Alfonso, il Vifelverenzialo! Il Papa si accanto il treno l'autore. Ci succede comunque più roba che il giù. E' un sacco simpatico questo dragon watermoney, coi vecchini, ciao! Wow!